BELLA RAGA! Oggi incontriamo con i nostri video di Minecraft e siamo nella nostra serie UNALTWAIT e stiamo giù ci siamo qui per pagare ma allora ULALA che comodità e poi me ne voglio andare sull'albero che bello mi piace troppo giochi chiaro ecco blu è più blu allora stiamo pensando a fare la scensola al posto della mia spada che sta morendo ormai vediamo un po' la scena non so le stile plate che si fanno nella plate bending machine oppure nella rolling machine nel F4 per questo ce ne vogliono 3, 5, quindi 10 ci servirebbero 8 di questi poi 4 resta e non abbiamo 4 adesso ecco ne abbiamo 3 che sfiga va bene allora non ci vorrei fare un'altra contatto vorrei vedere che qua ho finito di mettere questo e allora adesso andiamo a prendere il filtro bocca anzi volevo fare una cosa ho finito che lo disidratta la per giochi chiaro la 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 è la ho un la c eco 16 18 tanto per un pochettino riempirmi le MFA intanto che ero così, non stavo giocando erano le volte delle cose così sono state per riempirmelo un po' non ci sarebbe, speriamo di non morire vogliono cantare un piccone o un advanced dove il mondo dril ora ci mettiamo ora ci mettiamo appunto gli ordini e le metterle ora ci mettiamo la scala così sempre sfrutteremo la porta legale si ecco qua pericoletto ci mettiamo dall'interno e non mi metto 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 No, non cadere tutto. Ecco, è caduto un po' sottotitolo. Ecco, guardate qua. Ci sono 3, muori, muori. Ok, ne abbiamo preso un po', basta, ci basta così per adesso. C'è un lupo, un lupo nell'edda. Mi so che è anche troppo, iniziamo a andare ad arrivare ai pigmen. Non mi metterlo. Allora, non bisogna un po' di perferro. Smettiamo il bovido. No, va bene, ne abbiamo ancora molto. No, questo. Dovrebbe restarci. Quindi, ci serve un blocco di glowstone. What? Ecco se fa il blocco di glowstone. No, forse si fa nel compressore. Accidenti. Nel compressore, vabbè, abbiamo molta energia. Però, se no, ci prendiamo la glowstone. Come vogliamo farlo? Un blocchetto luminoso, eh? Chiede. Allora. Oh, 4 enderpearl. No, uffi. 1, 2, 3, 4. Un blocco. 1, 2, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 100, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adesso è l'8, è il 9 eccolo qua, siccome è puro pantanotte ecco qua la nostra gravity gun proprio yeah ci vorrebbe che carino che è Iron Man e a cosa ci serve non è la storia, non prende la moto e tu non vuoi faccio qualcosa ah, va bene, allora c'è la musica prima di tutto voglio fare una bella cosa però ho messo che questo lavoro lo faremo anche su e qua il disco ci fanno troppo male quindi lo mettiamo su e ci devo ricordare di toglierci lo mettiamo qui su e qua sotto c'è lo spawn e qua sotto c'è lo spawn adesso lo riposiamo qua mettiamo la porcina e qua sotto c'è lo spawn e qua sotto c'è lo spawn guardate un po' i maiali monster spawn è il grande Gigi per il monster spawn era pieno le bocca che fin l'ho fatta vediamo se non è arrivato se era pieno un po' di sempre sconare l'olio e ci metterò in casa a me non ho spaventato ah eccolo è perfetta il mio viso ecco ecco non abbiamo buche non abbiamo buche bene allora se noi qua mettiamo il nostro spawner si spavano a maiali? si ma è sempre di maiali quello che si ah con questo lancio giusto ora è poco potente e tutto e tutto non 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 ecco 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 mi so che comunque un po' di pelle già lo diamo facciamo un po' di uve mettiamo un po' di asciugare ok mettere il pelle spino mettere il pelle e lo so e non il sugar cane ok quanto posso cambiare il nome di una cosa? no però lo metto intanto noi vorremmo farci altri moduli tipo questo per la crafting table controlliamo il control circuit non ci interessa non ci interessa vediamo l'approccio questo lo mettiamo nel compensare non lo so posso fare il guide non fa più non sappiamo niente allora ci possiamo mettere a fare il triple clocker non ci vuole l'elettronico circolo quindi niente quindi niente allora ci riprendiamo un po' in spazio ci portiamo un po' di cibo ovvero che però vi sopra l'alimento questo due le liste anche ecco il final uranium è spittinio non ci sarà troppo importante troppi apportenti anzi non so che facciamo prima di fare così allora approfittiamo della fortale no accidenti era un motorino che è passato facciamo il villaggio o si a vedere se qualche villaggiero ha voglia di studiare anzi ce l'ho tenuto il villaggiero si è fatto male e Dremerald Dremerald per un acerino? non ne sei sicuro? vedi che lo sono i tuoi amici 14 raw chicken ma quanto fa? 14 raw chicken ma davvero davvero? muori avevo preso la roba dell'acceso si si la belle prese je la belle prese si è sempre quello cattivo il villaggiero cattivo 8 per un aerosol se aspetti che te li dia io c'è un altro campo una casetta non c'è un altro campo no è gigante ah, sono risoluto su gg scemo no, non so facendo niente adesso questa sarà tipo un video che c'è come nuova esplorazione sulle rigole yeah sulle rigole cioè Ironman sulle rigole scegliamo qua cosa c'è non superi per me la gira l'alunno nella buca oh, lì yeah in teoria non è che sono dove esplorazione, stanno andando a scioccare il primo super lag super lag super lagata eccolo qua un'altra legge questa è la prega del vispe quattro resta insieme oh yeah scappiamo wow un fatto di strada come è messo il jetpack? meno di metà? ok, sì ne prendiamo la colla gravity e ci ne torniamo a casa abbiamo anche della bella roba del dungeon e poi come torno a casa chiudo la futura poverina la mucca che vuole la mucca lilla non è vero non è vero sono lontano da casa no, quello di villaggio a casa per cento non, per cento e cinquanta oh, il jetpack che sta per finire vabbè ragazzi mi sta proprio bene per ora è tutto e ci vediamo nel prossimo episodio e arrivederci